ciao ragazzi oggi è natale auguri a tutti molti di voi mi hanno fatto già gli auguri alla vigilia che poi gli auguri si danno a natale però grazie allo stesso che comunque ci troviamo la distanza che è di un giorno per natale non ho in mente nessuno speciale bensì ho voluto fare un vlog quattro chiacchiere facciamo senza tagli e che dirvi un anno è passato come si dice anno nuovo vita nuova quindi spero che youtube mi dia l'opportunità di andare avanti nella maniera migliore e che voi mi supportiate sempre grazie di essere stati con me come in tutto questo 2017 tra l'altro il mio canale fa un anno a gennaio e non so come cosa fare come special anno su youtube non ricordo precisamente il giorno quando fu creato il canale quindi se voi andate le informazioni lo sapete voi ma non io e spero che quest'anno sia pieno di fortuna per tutti voi per me anche e che sia io gli ube sia la vita c'è la mani buona perché come ho già detto 2017 hanno nuova vita nuova che altro dire nuove nuove nascite nuove conoscenze altre nuove delusioni e quant'altro oppure nuove gioie per chi ha ricevuto il regalo di natale auguri e alla fine c'è poco da dire perché il natale si sa che è una festività dove si sta in famiglia quindi un augurio enorme a voi la vostra famiglia a tutti voi mie iscritti che mi seguite e con questo bel discorso di due minuti io perché non ho voluto dilungarmi troppo perché alla fine tutti gli uber dicono la stessa cosa riguardo auguri a tutti quanti buon anno e quant'altro spero che ve ne andate divertendo con gli amici tra l'altro la mattina comunque bisogna stare con i parenti i genitori ma la sera vi consiglio di uscire e andarvi a divertire con gli amici cosa mai evitate di sparare fuochi d'artificio perché si sa come uscire per strada non sia mai un inesploso vi possa scoppiare la mano quindi meglio evitare non si sa mai e non vi ubriacate perché voi se dovete guidare lo sapete com'è evitate la strada la sera sempre per aver fatto dei botti e poi soprattutto perché ci sta gente con la testa diciamo calda che non si è mai vuole prendere questione è proprio la serata di capodanno succedono i drammi polizia a destra infermieri ambulanza e quant'altro quindi evitate se potete evitate rimanete a casa invitate i vostri amici a casa vostra ma quelli da vicini ragazzi io chiudo qua se vi è piaciuto noi ci vediamo il 26 è bella a tutti auguri